E' pronto, Benzone Partners? E salve, buongiorno, chiamo per quel posto di direttore marketing. Volevo sapere se era possibile portare il curriculum a prendere un appuntamento. Ah. Ho capito, avete già trovato. Va bene, grazie, arrivederci. No, 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 non si preoccupi. Arrivederci. Con la crisi appena c'è un posto libero chiamano i 10.000. E' tutta la mattina che sto al telefono. Francesca. Dottor Ferretti. E' incredibile, anche lei cerca lavoro. Sì, è incredibile, ma è così. E come mai a Londra? Qualcuno ha avuto il coraggio che non ha avuto lei. Sono stata licenziata. Ah, mi dispiace. Sì, in effetti non ho avuto il coraggio. Ho saputo. E' per questo che hanno licenziato anche lei. Beh, io in realtà mi sono licenziato da solo. Ho saputo. Grazie.